Battipaglia capitale della monnezza pattumiera della regione è il testo dei manifesti anonimi affissi nella notte in vari punti del territorio di Battipaglia. Una singolare forma di protesta che prende spunto dalla difficile situazione ambientale del comprensorio, alle prese con le problematiche relative all'attività dello stir e dalla presenza di numerose microdiscariche anche a pochi passi dal centro. I manifesti già rimossi sono diventati virali sui social dove si è scatenato il dibattito sull'efficacia di tale protesta.